Sì, eccoci e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e partendo da Adrano nel Catanese dove un noto barbiere ha evaso il fisco per 700 mila euro. È stato però scoperto dalla Guardia di Finanza dopo una verifica. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Guardia di Finanza di Catania nell'ambito del contrasto all'evasione dei tributi dovuti ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un noto barbiere di Adrano risultato totalmente sconosciuto al fisco il quale avrebbe omesso di dichiarare circa 700 mila euro parte dei quali reimpiegati nell'acquisto di beni immobili, immobili e polizze vita. Ammonterebbero a circa 100 mila euro gli investimenti effettuati dall'imprenditore il quale anziché versare le imposte all'erario ha provveduto all'acquisto di un appartamento, un locale deposito e un terreno agricolo oltre a un SUV, tre utilitarie e due motocicli. L'attività svolta dai finanzieri della compagnia di Paternò ha permesso di accertare che la ditta verificata, sebbene avesse cessato la propria partita IVA nel 2017, ha continuato a svolgere l'attività commerciale. Gli accertamenti svolti, anche grazie all'esame della documentazione contabile ed extracontabile dei consumi delle utenze idriche ed elettriche, nonché delle informazioni ottenute dai social e dallo stesso imprenditore, hanno fatto inoltre emergere che in aggiunta all'operatività totalmente a nero dell'impresa, il titolare avrebbe parallelamente incassato circa 25 mila euro a titolo di indennità di disoccupazione agricola. L'imprenditore è stato pertanto segnalato alla locale autorità giudiziaria per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi autoriciclaggio, falsità ideologica in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Ci spostiamo adesso virtualmente nel Palermitano, per la precisione a Villa Bate, dove i carabinieri hanno invece tratto in arresto un 24enne, il quale per una lite, per una banale precedenza stradale, aveva prima inseguito, tamponato e minacciato di morte un'automobilista e poi è sfuggito anche ai carabinieri. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato un 24enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è partito da una concitata chiamata al 112, dall'altro capo del telefono un palermitano, un 52enne, il quale stava segnalando una discussione con un automobilista per motivi di circolazione stradale, relativi a una presunta mancata precedenza. La lite con l'indagato sarebbe pertanto degenerata, il giovane infatti sarebbe andato su tutte le furie, iniziando a seguire l'auto della 52enne, tamponandola ripetutamente e ingaggiando un vero e proprio inseguimento del malcapitato automobilista, nei confronti del quale avrebbe inveito, arrivando persino a minacciarlo di morte. I carabinieri della stazione di Villa Bate, pertanto posizionatisi lungo la direzione di marcia delle due auto, hanno individuato la vettura dell'arrestato, che al segnale di alt da parte della pattuglia, in tutta risposta non ha fermato il mezzo, ma si è dato alla fuga, percorrendo a forte velocità le vie del centro urbano, mettendo a repentaglio la vita degli altri utenti della strada e urtando vari veicoli parcheggiati. L'inseguimento è terminato con l'arresto da parte dei militari dell'arma, riusciti a bloccare l'uomo e ponendo fine alla sua folle corsa. Il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari del 24enne in attesa dell'udienza di convalida. L'arresto è stato poi convalidato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Blitz antidroga a Catania, da parte dei carabinieri nella cosiddetta Fossa dei Leoni, siamo nel quartiere di Librino. 14 persone sono state arrestate. Vediamo il servizio. I carabinieri del comando provinciale di Catania, col supporto di reparti specializzati, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del capoluogo etneo per 14 persone, indagate a vario titolo per associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono oltre 100 i militari dell'arma impegnati nell'operazione denominata Fossa dei Leoni 2 tra le province di Catania, Palermo, Cosenza ed Enna. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Etnea e condotta dai carabinieri della compagnia Fontana Rossa, ha consentito di smantellare una fiorente piazza di spaccio situata a lungo viale Grimaldi nel quartiere Librino di Catania, zona conosciuta appunto come Fossa dei Leoni per la sua struttura morfologica e storicamente riconducibile al clan Cappello. Molte le contromisure utilizzate dai pusher per non essere sorpresi dalle forze dell'ordine, mentre garantivano il costante approvvigionamento di crack, cocaina e marihuana ai numerosi acquirenti. Oltre a suddividere le quotidiane attività di spaccio in turno, infatti, con filtraggio dei clienti, sia gli spacciatori che le vedette usavano tra di loro un linguaggio criptico, un codice segreto che serviva loro a indicare gli stupefacenti, camice per la cocaina, crackers per il crack e giubbotto per la marihuana. Utilizzavano anche delle difese passive nel luogo dello smercio di droga, una palazzina protetta da un portone abusivo in ferro battuto e apribile solo dall'interno. Durante le attività investigative i carabinieri hanno eseguito complessivamente 26 arresti in flagranza di reato, sequestrato circa 67 kg di droga, in prevalenza marihuana, due pistole, un fucile e cartucce di vario calibro. 17 persone sono state invece denunciate a Caltanissetta. Si tratta di attivisti che nei giorni scorsi avevano bloccato un autobus della Polizia di Stato che stava trasportando alcuni cittadini stranieri irregolari nel territorio nazionale per essere rimpatriati. Vediamo il servizio. In occasione del trasferimento di alcuni cittadini stranieri irregolari trattenuti al CPR di Pian del Lago per il successivo rimpatrio, un gruppo di 17 attivisti ha bloccato il pullman della Polizia di Stato lungo la strada provinciale 5 nella periferia di Caltanissetta. Due di essi, dopo che il gruppo di manifestanti ha occupato la carreggiata stradale, si è anche incatenato sotto il mezzo impedendo la prosecuzione della marcia. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi della sezione volanti, della Digos e della squadra mobile che hanno bloccato i manifestanti che sono stati condotti in questura. Il pullman con gli stranieri ha quindi ripreso regolarmente la marcia proseguendo il servizio. I 17 attivisti sono stati tutti compiutamente identificati, 12 sono di nazionalità italiana e 5 straniera, alcuni gravati da pregiudizi di polizia. Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e manifestazione non autorizzata. I predetti saranno inoltre sanzionati amministrativamente ai sensi del Codice della Strada per blocco stradale. Il questore, nei confronti di 15 attivisti non residenti a Caltanissetta, ha emesso anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel capologo nisseno per un periodo di tre anni. Nei confronti di due di essi, invece, residenti a Caltanissetta, è stato emesso l'avviso orale a cambiare condotta. Buone notizie per i cacciatori. Riparte infatti la caccia in Sicilia dopo la sospensione del CGA che aveva accolto la richiesta di alcune associazioni ambientaliste. L'assessore regionale San Martino ha infatti firmato il decreto che riattiva la stagione venatoria 2023-2024. Per tutti i dettagli, il servizio. Riparte la stagione della caccia in Sicilia. L'assessore regionale all'agricoltura, Luca San Martino, ha firmato il decreto che riattiva la stagione venatoria 2023-2024, che era stata sospesa dopo l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 10 novembre scorso. La firma è arrivata al termine delle verifiche richieste dal CGA e dopo la chiusura dell'istruttoria. Abbiamo operato in tempi celeri, ha dichiarato San Martino, onorando l'impegno di riaprire la stagione venatoria. Una buona notizia attesa dai cacciatori siciliani, ai quali voglio rinnovare il mio sostegno, ha concluso l'assessore regionale all'agricoltura. Annata agrumicola preoccupante in Sicilia a causa della siccità. Questo, dice col diretti Sicilia, c'è preoccupazione per tutti i prodotti siciliani. Facciamo il punto del nostro servizio. Calibro piccolo, alberi con foglie secche, terra completamente asciutta e il caldo che non accenna a diminuire. In questo contesto l'annata agrumicola è preoccupante e mostra quanto di anno in anno il clima peggiori la situazione. Lo afferma col diretti Sicilia, con riferimento alla siccità che sta investendo le campagne siciliane, che con oltre 25 gradi in media continuano a soffrire anche per l'esaurimento delle scorte dei pozzi. È una situazione allarmante e prosegue col diretti Sicilia, che riguarda tutti i prodotti dell'isola, con gli agricoltori costretti a spese sempre maggiori per mantenere la qualità. La mancanza di pioggia incrementa infatti i costi di produzione. Dal gasolio alla manodopera, per un agricoltore, quello in corso è uno dei peggiori anni. Particolarmente grave è la situazione nella piana di Catania, patria delle arance rosse, che stanno ritardando la pigmentazione proprio per mancanza di freddo, indispensabile per la colorazione. La pezzatura è piccola, ma ogni giorno i produttori lavorano al mantenimento degli standard qualitativi. E di fronte a tutto questo continuano i problemi di rifornimento idrico, che i consorsi di bonifica dovrebbero assicurare, ma che la faticenza delle strutture rende vano, aggiunge col diretti Sicilia. Mentre l'anno scorso, sempre nel Catanese, il servizio è cessato a settembre e poi è arrivata la pioggia, quest'anno l'acqua è finita anche per gli sprechi. Non è più pensabile di buttarla, mettendo così a rischio intere aree che si reggono sull'agricoltura. E mentre i campi rimangono a secco, la legge di riforma dei consorsi di bonifica è nel dimenticatoio, insabbiando di fatto il futuro di chi vuole continuare a fare agricoltura, sottolinea col diretti Sicilia. In Sicilia il 72% dei ragazzini utilizza uno smartphone e sono in aumento i casi di cyberbullismo, il servizio. In Sicilia il 69,3% di bambini e adolescenti fra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone. La media nazionale è del 73%. In Italia il 65,9% usa lo smartphone tutti i giorni, in Sicilia la percentuale sale al 72,3%. Si abbassa sempre di più l'età in cui si possiede o utilizza un cellulare, con un aumento significativo di bambini tra i 6 e i 10 anni che lo utilizzano tutti i giorni dopo la pandemia. Al sud e nelle isole la percentuale è passata dal 28,3% al 42,8% tra il biennio 2018-2019 e il 2021-2022. Nonostante questo utilizzo diffuso, nella mappa europea sulle competenze digitali dei 16-19 anni l'Italia si posiziona a quart'ultima. La quota di giovanissimi con scarse o nessuna competenza è del 42% rispetto a una media europea del 31%. Il dato medio italiano nasconde ampi divari territoriali, il nord e il centro sono più vicini alla media nazionale, con 34 e 39%, il sud invece ha oltre la metà dei ragazzi con scarse o nessuna competenza, 52%. Sono i dati della quattordicesima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, dal titolo Tempi digitali, diffusi da Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Per quanto riguarda la connettività, le famiglie con accesso alla banda ultralarga a fine 2022 erano il 52%, dato significativamente aumentato rispetto al 2016, quando erano appena l'8%, con differenze territoriali importanti. Tra gli 11 e i 13 anni sono in aumento gli atti di cyberbullismo. In Sicilia gli adolescenti vittime di questi episodi sono il 16,2%, la percentuale più alta insieme alla campania. Le ragazze sono più frequentemente vittime di atti di cyberbullismo, ma esiste anche una quota di bulle che colpiscono le compagne per isolarle e deriderle, soprattutto negli anni della preadolescenza, quando i tempi di crescita non sono uguali per tutte. Parliamo di energie rinnovabili, con la Sicilia in ritardo rispetto ad altre regioni italiane. Nonostante sia la terra più irradiata dal sole nel bacino mediterraneo e sia anche fortemente ventosa, la Sicilia è soltanto decima fra le regioni italiane per numero di imprese e di addetti del comparto energia rinnovabile, 1.409 aziende con 2.083 dipendenti. E quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Economico di Union Camere Sicilia, aggiornati al terzo trimestre di quest'anno? La Sicilia è preceduta dalla Lombardia, prima con 5.273 imprese e 16.087 addetti. Seguono in ordine Lazio, Veneto, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Campania. Nel dettaglio, in Sicilia il settore della produzione, distribuzione e vendita di energia vede 727 operatori con 825 dipendenti. Quello della costruzione, installazione e gestione di impianti, 648 imprese con 1.237 addetti e infine il settore tecnico 34 società con 21 dipendenti. Questi dati ha commentato Pino Pace, presidente di Union Camere Sicilia, confrontati con le grandi dimensioni delle filiere produttive e sorte nelle altre regioni attorno alle rinnovabili, evidenziano il forte ritardo della Sicilia in questo campo, ma mostrano anche quanto siano elevate le possibilità di sviluppo in questo settore e in generale in quello dell'economia circolare, in presenza di una politica di incentivi e di una forte sinergia tra pubblico e privato. E' tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.